avanti a alcuni pulsanti, però siamo live anche di qua. Ok, ok, ci siamo Albi, ci siamo. Ciao a tutti, buonasera. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, come state ragazzi? Tutto bene? Noi siamo abbastanza carichi, cosa dici Albi? Sì, molto, molto, molto. Ci tenevo a essere presente anche io oggi perché questa presentazione mi hai caricato, Fede, mi hai caricato su Instagram quando hai pubblicato i guanti, diciamo, un po' del passato, dal primo, da Adder Giallo, dal mio Kruger, dai guanti che hanno fatto un pochino anche la storia del brand e quindi ci tenevo a essere presente qua sulla tua piattaforma per questa nuova presentazione, questa doppia presentazione. Eh sì, perché abbiamo un bel po' di cose, abbiamo un po' di cose di cui parlare sicuramente, ma adesso le vedremo tutte. Insomma, è un momento che io personalmente aspettavo tanto tempo. Per entrambi, diciamo, le grandi cose che presentiamo perché, insomma, sono due belle novità, secondo me. No, sono curioso, chiaramente. Una che mi viene in linea col percorso. Cosa? Sono curioso anch'io per come possa reagire il pubblico, per come l'hai studiata te in questi mesi, che volevi creare qualcosa di importante. Hai dato un bel contributo nel passato. Addirittura oggi, quando... non dico che mi è scesa una lacrimuccia con il primo Hulk, però tanti magari dei ragazzi che ci stanno seguendo fra YouTube e TikTok non l'avevano mai visto indossato, magari appunto nei campi. Adesso però si apre effettivamente una nuova era. L'era che... non voglio spoilerare niente, non voglio spoilerare niente, voglio lasciare a te la palla in mano, dai. Beh, faccio un paio di saluti intanto. Nerone, Matteo, Sacchia, Fabione, Lorenzo. Insomma, mi fa... mi fa un sacco... C'è un sacco anche su TikTok, Fresa, Fresa, Alessandro. Se avete tante domande poi fatecele che cercheremo di rispondervi a tutti in questa live. Tempo della presentazione, chiaramente. Esatto. Chiaramente poi, come sempre, gestire le cose su più piattaforma vecchia, siamo ormai degli abituè, insomma... e siamo si abituati ad essere un po' impacciati, ma siamo anche abituati a sfangarla sempre. Quindi non vi preoccupate se avete problemi, se volete fare domande, eh? Chiedete sempre. In qualche modo, insomma, riusciamo a venire incontrare le esigenze di tutti. In saluto anche Denis, Mattia, Elisa che ci chiede come faccio a prendere i nostri guanti. Non capisco in che senso, cioè, all'acquistarli vai sul nostro sito 11.com. Se hai altri... come si dice... se prendere intendi in un altro senso, insomma, facci capire un po' meglio, ecco. E intanto vedo... qua, anche su TikTok, siamo sempre in bolla. Bene. E Albi, intanto, non so come... diciamo, io direi di andare abbastanza rapidi, anche perché so che tutti siamo qua per un motivo, non voglio neanche tediare troppo, diciamo, con altri discorsi superflui. Mi fa un sacco piacere vederti, dico solo questo. So che sicuramente sarà un periodo che starai bello lavorando, bello carico, sempre in campo, perché ti ho già visto quest'estate, 11 days, ed eri già a carico allora, quindi immagino che... insomma... E penso che, Fede, mi sono accorto che quando sono arrivati in ritiro ero... ero bello cotto lo stesso. Cioè, ho fatto una fatica comunque a riniziare da zero proprio, quasi zero, ma... poi il ritiro a Roma quest'anno è stato abbastanza impegnativo, anche a livello di caldo, anche a livello di clima, sì. Alla fine... sai com'è? Di certo si va in montagna, noi quest'anno abbiamo fatto un'altra scelta, ma speriamo possa pagare lo stesso più avanti. Quella è la speranza. In pianura, diciamo, e non in altura, però... ora sì, fra poco inizia il campionato, quindi siamo... siamo pronti per affrontarlo. Chiaramente quest'anno avremo altri obiettivi, obiettivi importanti, e bisognerà... bisognerà spingere dalla prima giornata. Speriamo veramente anche che... che questi guanti tuoi possano darci una svolta e... li porteremo con onore. Sì, sì. In tutti i sensi. Sì, sì. E... beh, allora, io intanto inizio a condividere la presentazione, che è così... Io intanto informo ai ragazzi di TikTok che ci stanno seguendo, abbiamo già 230 mi piace, grazie per... bene, bene. Per aver condiviso questa live. Sul canale YouTube di Eleven troverete anche le slide, quindi se volete abbandonateci qui e dirottatevi subito su YouTube. A noi fa un grande piacere. Esattamente. Allora, siamo qua per... come potete vedere dalla presentazione, questo è, diciamo, il cuore della collezione Dawn of Goalkeeping, che non finirà qua, ma diciamo è solo un grande... un piccolo grande passo, perché presentiamo tante cose che per il nostro percorso sono molto importanti. Mi focalizzo brevemente sul nome della collezione, appunto, Alba. Quindi un nuovo inizio sostanzialmente, che vuole dire sia per quanto riguarda i prodotti, perché andiamo a presentare dei prodotti che secondo me... un prodotto che secondo me cambia abbastanza il nostro modo di prendere i guanti fino ad oggi. E poi anche per degli altri progetti, progetti dei quali tu sicuramente sai più che qualcosa, perché insomma, fino adesso la carretta l'avete provata tu e vale, e adesso, diciamo, le nostre strade si uniscono anche sotto questo aspetto qua, e quindi insomma dopo ci sarà modo anche di parlarne. Io comincio, diciamo, con una piccola intro per vedere quelle che sono un po' le cose che di cui andremo a parlare. Il primo tema della giornata sarà quello di Leven FC, appunto, che è la scuola portieri che sta nascendo di fatto, cioè esisteva già, ed è anche qua, siamo qua, grazie anche a te e Vale, che avete fatto un percorso enorme in questi anni con una community, quella di Buona Bia Pro, che ha lavorato veramente bene ed è stata innovatrice sotto tantissimi aspetti, come quello del canale di Telegram, come tanti altri venti, lezioni online durante il lockdown, eccetera, eccetera. Adesso, diciamo, finalmente, anche se prima comunque come Leven abbiamo sempre supportato il canale YouTube e anche tante vostre attività, adesso effettivamente, diciamo, andiamo a braccetto. E quindi, diciamo, sostanzialmente mi unisco anch'io alla compagnia e andiamo effettivamente a creare, grazie soprattutto anche alla società Montorio qui a Verona, che ci ha dato la disponibilità di avere una nuova casa, andiamo a creare una scuola portieri sul territorio qui a Verona, dove finalmente, insomma, ci sarà la possibilità di allenarsi con noi tutto l'anno, ecco, tutta la stagione. Ma poi presenteremo i nuovi kit, presenteremo il guanto nuovo, vi abbiamo già spoilerato il nome Alfa, e poi, diciamo, diamo un piccolo appuntino per quanto riguarda la Limited Edition parte 11, perché anche questa cosa è molto importante. E come al solito, per quanto riguarda le Limited Edition, insomma, sono sempre molto attese. Vedrete che fra un po' sta arrivando anche la Limited parte 10, per cui, insomma, diventa un'ottima occasione di, sostanzialmente, di, 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 per non lasciarsela sfuggire. Partiamo dai level... Vuoi già rilevare, rivelare qualche data della Limited 10, che qua sono tutti in attesa? Sì, 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 beh, assolutamente. Dopo ne parleremo, comunque, però, tra un paio di settimane fondamentalmente arriverà, di fatto, presso la nostra sede. Quindi, come al solito, dopo ci sono quei tempi tecnici per la preparazione dei, eh, dei pacchi e delle personalizzazioni, e poi, finalmente, potrete averla e sfoggiarla tutti. Anche se tu hai avuto l'occasione di sfoggiarla già in anticipo, nonostante abbia tentato di nasconderla. Una, una mezza cosa che il nerd dei guanti mi, mi, mi ha, mi ha scovato. Bene, allora, parliamo un po' di Eleven FC. Sarò molto breve, ma perché mi interessa poi, insomma, che arriviamo in fondo e che ci siano tante informazioni per tutti. E, come dicevo prima, è stato un passo abbastanza naturale, nel senso che per te e per Vale era già un progetto che avevate in atto, e per Eleven, che è un'azienda che si è sempre basata molto su condividere un po' il modo di vedere il ruolo del portiere, diciamo che era veramente qualcosa che, eh, qualcosa che sarebbe dovuto succedere prima o poi, nel senso che, essendoci prodigati sempre tanto, eh, per quanto riguarda la tecnica del portiere, i video tecnici, eh, video di parate sui nostri canali, eh, l'idea di poter portare l'esperienza di allenarsi con noi e anche di poter, diciamo, proseguire in un percorso formativo che quello sicuramente era più lato, lato tuo e di, e di Vale, ehm, diciamo, era un passo abbastanza naturale. Per cui, eh, abbiamo deciso, quando abbiamo avuto la possibilità di avere un campo, perché era la cosa più importante, soprattutto un campo di certo livello, perché, eh, andiamo a lavorare, eh, a Montorio, che è un paesino qui vicino a Verona, che ha una delle strutture più belle di tutta la nostra provincia e che, eh, ci permette di lavorare al meglio, perché abbiamo un campo sintetico di ultima generazione, abbiamo dei tempi ben specifici, perché abbiamo tutti lunedì, adesso lo vedremo, eh, per poter lavorare serenamente e, e quindi, diciamo, abbiamo tutte le condizioni migliori per fare un ottimo lavoro. E, ti ho perso in live su TikTok, ok, no? Sì, 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 sì. E, abbiamo, ho messo, abbiamo messo, abbiamo messo quattro, diciamo, punti fondamentali per i quali, eh, secondo noi, questo potrebbe essere per tanti una bellissima esperienza da fare, eh, sia lato formativo che esperienziale e, sostanzialmente, sono quelli, eh, che, di fatto, io per primo che, diciamo, mi sto avvicinando ad allenare i portieri, tu sei un portiere, eh, di livello, ma comunque sei partito anche tu da degli ambienti dilettantistici per certi aspetti, perché, uscito dal Milan, sei andato a giocare in Serie D. Vale, eh, anche l'une esperienza, in tal senso, il problema di tanti settori giovanili dilettantistici è che, di fatto, eh, mancano, manca lo staff che possa seguire. Sì, non dedicano magari tutto il tempo necessario per crescere al meglio il giovane portiere o comunque per allenarlo anche sul, sul limite, quindi sulla, sulla qualità magari non ancora espressa, eh, alla fine il portiere, quando si dice che la carriera del portiere è più lunga degli altri, anche perché esce un pochino dopo. Invece, se iniziamo da giovani a concentrarci sul nostro ruolo, cercando subito di limitare o comunque limare i lati magari, eh, fisici o comunque coordinativi o comunque di prestazione che, eh, sono carenti, ognuno di noi ha dei, ha delle carenze, io in primis a trent'anni ho dei, dei dettagli su cui voglio ancora concentrarmi per, per migliorare, eh, immagino un ragazzo di otto, nove, dieci, undici, dodici anni, quanta, quanti allenamenti in più potrebbe fare, perché il fisico glielo consente, perché l'energia glielo consente per migliorare determinate caratteristiche. Quindi, eh, l'idea appunto, sono venuto io stesso a Montorio per, eh, per valutare comunque la struttura, per vedere il materiale, tanto materiale lo abbiamo anche acquistato, acquistato noi per dare una, un allenamento ancora migliorativo rispetto, ci saranno degli strumenti che magari, um, settore giovanile normale o anche, anche professionistico, non tutti gli strumenti che noi abbiamo, abbiamo acquistato, possono, possono provare i ragazzini appunto di, di varie fasce d'età in cui andremo a colpire noi. Eh, sono certo che poi con una figura come Valerio, come, eh, come ste, come, come a te e me, magari verso fine stagione, chiaramente, i nostri, i nostri ragazzini, coloro che verranno ad allenarsi con noi, eh, possiamo mettere la mano sul fuoco che, eh, il miglioramento si vedrà. Eh, chiaramente, bisogna avere pazienza, bisogna avere costanza e bisogna avere quella voglia che poi contraddistingue ognuno di noi. No, no, assolutamente e poi comunque, insomma, eh, era una delle cose più richieste, diciamo, sotto i nostri video, quando è che mi posso allenare con voi, ma mi posso allenare con voi e quindi secondo me, appunto, di pari passo anche al, a un lavoro tecnico c'è anche proprio l'aspetto esperienziale che sicuramente è un plus non da poco e cerchiamo di fare tutte le cose fatte bene. Adesso, ehm, io sono molto, molto convinto che, eh, può essere veramente un percorso sia per noi entusiasmante, per chi, diciamo, ci segue, eh, sui social ormai da anni per un modo in più per venire a contatto con le nostre realtà e soprattutto per tanti ragazzi, come dicevi giustamente tu, di, eh, esplorare un percorso di crescita che può aiutarli poi negli anni, ecco, a diventare, a diventare dei portieri migliori, degli atleti migliori. Quindi sicuramente questo è un aspetto molto importante e sulla quale, diciamo, spingiamo molto. Ehm, vado direttamente a come si svolgerà l'attività, come l'ho già anticipato prima, lavoreremo tutti i lunedì, da, eh, il primo, il primo lunedì di settembre fino all'ultimo lunedì di maggio. Quindi la scuola, diciamo, avrà tutto, eh, lavorerà durante tutto l'arco stagionale in modo da poter integrare al meglio gli allenamenti che già i ragazzi e le ragazze fanno le loro squadre, eh, durante tutte le settimane. Abbiamo scelto proprio il lunedì perché solitamente è quel giorno libero post partita, o comunque dove ancora non è iniziata la settimana, che dà la possibilità a chiunque di, insomma, magari ritagliarsi quell'oretta di tempo per allenarsi e concentrarsi sulle cose sulle quali, sulle quali migliorare senza la pressione di allenarsi con la propria squadra. Le sedute sono da un'ora, come abbiamo detto, appunto, eh, dall'1 settembre al 31 maggio. Già, posso già dirlo, ma l'hanno visto se ci seguono sui social, abbiamo già cominciato a fare comunque qualche individuale di prestagione, eh, dove abbiamo un po' gli orari un po' più flessibili ed è un'ottima occasione anche per riprendere confidenza col campo, fare un po' di, eh, fare un po' di fatica prima di confrontarsi con i propri compagni di squadra e, e questo secondo me è anche una bellissima, una bellissima cosa da scoprire. Sì, sembra una cosa da poco, Fede, ma lo dicevo anche ai ragazzi che sono venuti in montagna con noi. Eh, il nostro corpo ha bisogno chiaramente di allenarsi e staccare la spina per troppi mesi non fa bene né al nostro fisico né ai muscoli, ma soprattutto alla concentrazione, allo stare sul pezzo, lavorare per, per un'ora, comunque non è, non è una cosa banale, quindi anche arrivare alle proprie preparazioni un pochino più in forma magari del competitor, portiere, può aiutare anche a farsi vedere più pronti agli occhi del mister stesso, quindi eh, sono piccoli vantaggi che secondo me un, un ragazzo deve, deve pensarci, deve, deve ragionarci. Albi abbiamo qua su TikTok un ragazzo che ci scrive se, un consiglio per tuffarsi a sinistra, vuoi che rispondiamo dopo? Eh, sì, magari rispondiamo alla fine, tanto ce lo ricordiamo. Perfetto, perfetto. E qui, qui brevemente le proposte allora, abbiamo già un po' introdotto il discorso, però sostanzialmente lavoriamo in due modi, uno personal, dove andiamo a lavorare specificamente sulle richieste, le necessità, le caratteristiche del singolo portiere, e un'altra piccoli gruppi dove appunto da due a sei portieri lavoriamo e abbiamo un percorso invece più ampio che dura, eh, diciamo, con l'obiettivo di durare una stagione per creare un percorso di miglioramento nel tempo. Quindi, eh, sicuramente le due proposte per assurdo non si escludono, eh, uno potrebbe farsi tranquillamente un individuale, poi un allenamento con il gruppo, in modo da avere una prospettiva più ampia, però assolutamente, diciamo, sono entrambe molto valide. Eh, chiaramente, dopo lo vedremo con, eh, l'allenamento piccoli gruppi è anche un modo per risparmiare qualcosina, ovviamente, eh, per cui anche può essere una soluzione utile per quello, mentre chiaramente quando uno fa un personal, o lo fa proprio per provare il lavoro, eh, individuale, oppure proprio perché ha delle esigenze specifiche e quindi il lavoro magari in gruppo può risultare dispersivo. Andiamo già direttamente a un po' agli aspetti più pratici, che così andiamo, proseguiamo con la presentazione. L'iscrizione ha il costo di 30 euro e comprende, queste cose non sono da sottovalutare perché, eh, all'interno c'è, oltre all'iscrizione proprio alla scuola, abbiamo l'assicurazione che ovviamente è quella che copre, qualora appunto succeda qualsiasi cosa, non si sa mai qualunque, quando si entra in un campo di calcio, per quanto noi prenderemo sicuramente i provvedimenti e le precauzioni del caso, ma soprattutto c'è un kit che dopo vedrete anche perché lo presentiamo, che solo il tanto del suo valore supera già l'intera quota di iscrizione e un'altra cosa che fino ad oggi veniva venduta con Eleven Pro Light ed è lo sconto del 5% sul sito più le spese di spedizione a maggio. Non dico che uno potrebbe iscriversi anche soltanto per avere lo sconto, ma quasi. Certo, certo, effettivamente. Perché è veramente un'ottima occasione per risparmiare qualcosa sui guanti e dopo avere modo di entrare anche sotto quell'aspetto lì nel mondo Eleven. E dopo queste sono invece le offerte per i personal, ovviamente più si acquistano, diciamo, più lezioni contemporaneamente, più si ha uno sconto accumulativo, dove il massimo risparmio si ha con il pacchetto da 10 lezioni, che ci porta a non solo risparmiare 10 euro lezione, ma anche avere una lezione in omaggio, più il 10% sul sito. Quindi veramente un'ottima offerta. No, non li abbiamo ancora presentati quanti nuovi i pacchi, quindi manca poco e non ti preoccupare. E dopo invece questi sono i prezzi per i piccoli gruppi. Ovviamente tutte queste informazioni le trovate già sul sito, la pagina è andata online l'altro giorno, quindi se volete approfondire, guardare meglio, c'è la possibilità tranquillamente di andare sul sito e scovare tutto. I prezzi qua partono da 35 per la singola lezione e arrivano per il percorso annuale, quindi non di 10 lezioni in mani tutto l'anno, che vuol dire fino a 35 lunedì, che è 700 euro. E anche qua c'è una lezione personal in omaggio e il 10% di sconto sul sito. Sì, sì, sono in linea, no? Chiaramente in linea con altre scuole. Noi abbiamo voluto comunque migliorare sotto il punto di vista della strumentazione, delle attrezzature. Proporremo anche, Fede, è una cosa importante da dire per i personal, anche il discorso video, video editing, la possibilità di essere filmati durante l'allenamento, di riguardare a casa i propri errori anche, oppure il dettaglio su cui poi magari in allenamento non ci si accorge di avere magari messo la mano male o una situazione un pochino incerta, a casa poi si può rivedere, capire effettivamente dove è stato l'errore, dove si può migliorare. Il ragazzo che prima ci diceva come posso migliorare a tuffarmi alla mia sinistra, principalmente se hai un grande difetto rispetto a tuffarsi al lato a destra o al lato sinistro, è un difetto di coordinazione, di schema motorio per arrivare più velocemente possibile e con più forza possibile su un lato rispetto che un altro. Quindi anche solo un video che ti possa far capire, cavoli, magari invece che appoggiare bene l'avampiede, spingi con la parte esterna del piede, è un piccolo dettaglio ma che poi fa la differenza nel tuo percorso di crescita. Quindi ho già risposto alla domanda di prima con questo esempio. Però sono cose, secondo me e secondo chiaramente il nostro staff che ha voluto appunto creare questa idea di questa proposta per crescere, per avere quel qualcosina in più per poi provare veramente a fare una carriera importante solo per questo. Sì, ma si può dire anche se non importante, ma comunque di tutto rispetto, ecco non tutti poi sappiamo che arrivare a giocare ai tuoi livelli è veramente molto difficile, però allo stesso tempo ci si può togliere tantissime soddisfazioni a qualsiasi livello e farle soprattutto anche banalmente lavorando sotto l'aspetto coordinativo tecnico, evitare tanti infortuni. Sì, ma mamma mia, borsiti, tante problematiche ai fianchi, ai gomiti, non è una cosa da poco, saper atterrare è tante volte più importante che saper spingere. No, non so. Quindi qua comunque Fede fremono tutti per i prossimi discorsi qua su… Adesso andiamo avanti, andiamo avanti. Non vedono l'ora. Allora, proseguiamo un po' con… ci sono qua brevemente gli optional, quindi avremo anche altre possibilità di personalizzare l'acquisto nei pacchetti, quindi avere uno shooting fotografico dal nostro TAD, video verticali registrati col telefono, un montaggio di video verticali e un video orizzontale di qualità come quelli che vedete sul nostro canale. Sono tutte cose che potrete aggiungere alla vostra esperienza qualora decideste appunto di anche fare un regalo, perché magari ci si vuole fare un regalo, ci vuole fare un regalo a proprio figlio o un regalo di compleanno, mi viene da dire, può essere una bella cosa regalare un video esperienziale di un allenamento fatto con noi. Quindi anche questa è una piccola cosa in più che secondo me impreziosisce il lavoro. Bene, vendiamo un po' per quanto riguarda i prodotti così acceleriamo. li avete già visti sicuramente, andiamo a presentare quelli che sono i kit che avete visto nei nostri camp, sia 11 days che nei camp con aerea portieri, che sono veramente una bella bomba. A differenza dell'anno scorso, quest'anno il kit comprende sia maglia che pantaloncino, quindi il prezzo che vedete è maglia più pantaloncino, non c'è solo la maglia, e viene in due colorazioni, sia nero che rosso. Quindi c'è proprio la possibilità di anche personalizzare, tra virgolette, la scelta, avendo due colori, che sono i colori che hanno utilizzato i ragazzi a 11 days, nelle due squadre nei quali abbiamo suddivisi. Secondo me è veramente un ottimo kit, Albi, non so tu dove l'hai provato, come ti sei trovato? Ottimo materiale, traspirante, confortevole, comunque tante volte quando ci si tuffa con dei materiali scadenti si rischia di darci fastidio al collo, se il materiale magari è troppo stretto, troppo duro, invece io mi sono trovato bene. Non so se questa foto, no, non ci sono io, c'è il buon tende in questa foto. Sei il tuo all'inizio nella fase della faccia. No, tranquillo, però mi sono trovato bene. Poi è molto bello l'abbinata, quindi a me è piaciuto molto. Quindi sarà possibile preordinarli, anche questi da stasera, e in una decina di giorni li avremo effettivamente a magazzino, quindi potete tranquillamente preordinarli subito, Mari, insieme ai guanti, e fare già l'abbinata per i vostri allenamenti o per, diciamo, anche volendo le partite in solo nuova stagione. Andiamo un po' alla... Morca! Andiamo, diciamo, alla cinccia. Ragazzi TikTok, passate da YouTube, passate da YouTube. Ah, beh, giusto, giusto, giusto. Sta per essere presentato, Alfa. Beh, io ce l'ho qui con me, quindi... Ah, ok, ok, ok. Sì, 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 sì. Ce l'ho qui con me, adesso lo spondo piano piano. E partiamo subito con l'immagine, così anche i ragazzi, sia di YouTube, su YouTube possono vedere, diciamo, in alta risoluzione. Vi presento, finalmente, dopo tantissimo lavoro, ma dopo andremo un po' qui nel dettaglio, il buon Alfa. E alziamo qui... Alziamo qui il guanto per i ragazzi TikTok, ma lo mostriamo anche bene per invece i ragazzi di Instagram. Già, se qualcuno lo chiedesse, questo elemento qua, come avete visto in una slide precedente, è una ovviamente rovesciata, che è il simbolo del guanto, è il logo, diciamo, del guanto. E sostanzialmente è un po' il frutto, veramente, di tanti, tanti... diciamo, tanto tempo di lavoro. I più attenti, già guardando semplicemente questa foto, queste immagini, riconosceranno, diciamo, l'imprinting molto forte della limited parte 7, che, diciamo, ha ricevuto tantissimi apprezzamenti per quanto riguarda la qualità e il comfort. Tu me lo puoi confermare? Cosa dice Alfa? Sì, 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 infatti avevo chiesto altri modelli, altre copie, diciamo, di quel modello da utilizzare anche a partire per quest'anno, in ritiro e tutto. Poi erano tutte terminate, quindi non vedevo l'odore Sciss e Alfa per riaverlo nelle mie mani. Andiamo un po' agli aspetti tecnici. Direi. E, diciamo, come al solito, il lattice è il contact grip, sul quale ormai siamo tranquillissimi, perché è un lattice che garantisce ottime prestazioni in tutte le condizioni meteo, soprattutto, chiaramente, sull'asciutto, ma ha questo grandissimo pregio che, per essere un guanto da partita, ha un'incredibile resistenza all'abrasione, quindi, diciamo, è un guanto che, con il quale potete effettivamente fare tante, tante partite senza rimanere a piedi, ecco. E intanto ringrazio Sakia o Sakia che fa i compagni. Sascha, Sascha, prima ci ha spiegato. E quindi, diciamo, quindi partiamo dal lattice, ma la grossa novità su questo guanto qui, adesso lo faccio vedere anche ai ragazzi di TikTok, mentre quelli di YouTube possono vedere, al di là di che sia un po' sporcato l'attice, ok, è che abbiamo ridotto al minimo, fino a togliere, gli inserti tra le dita. Questa particolarità qua permette di avere tantissimo spazio di presa sulle dita, ho un po' la luce che me lo spara flasha su TikTok, purtroppo. Sì, però si vede bene. Però, in sostanza, abbiamo aumentato tantissimo lo spazio di presa, quindi è come avere un roll finger, in sostanza, con però, avendo un taglio negativo, una cucitura negativa, avere tantissima sensibilità. Quindi siamo riusciti, con questa lavorazione poi anche sul dorso, a combinare i due tipi di taglio per avere, diciamo, il meglio dei due mondi, no? Sì, il compromesso migliore. Vai, vai. È un compromesso migliore, in effetti si vede anche dalla foto di YouTube quanto spazio di superficie di presa c'è, ti viene voglia effettivamente di indossarlo, si vede proprio che è studiato bene, è lavorato molto molto bene, anche i due tagli, è veramente, veramente eccezionale. La particolarità di questo taglio, appunto, come potete vedere, è che, appunto, il lattice arriva, il lattice del palmo e il materia del dorso proprio si incontrano a metà dito, quindi è effettivamente come se combaciassero a metà e quella zona che una volta era, diciamo, riempita da quelli che in inglese si chiamano gassets, ovvero gli inserti, che di solito sono in materiale tessile o in lattice, sono diventati effettivamente zona di presa, quindi non avete mai la sensazione di perdere il contatto sul pallone e soprattutto da indossato vi dà questa sensazione di sentire una totale adesione sul pallone, è veramente molto molto interessante questo aspetto qua. Consigli la stessa taglia, più o meno, del solito, una taglia in meno, una taglia in più? Allora, io ho già scritto sul sito, ma poi lo specificherò, che secondo me si può prendere tranquillamente come riferimento Vision, quindi, secondo me, tu puoi anche andare sulla 9, ma poi le valuteremo entrambi, insomma, senza nessun problema, perché comunque è un guanto che, nonostante sia molto aderente, dopo lo, dopo vedete, c'è anche scritto, ma nonostante sia molto aderente, comunque non veste, come per esempio V-Sense, in maniera, diciamo, talmente compressiva da essere quasi claustrofobico. La mano comunque ha buona libertà ed è veramente molto comodo. In particolare, poi, mi vorrei soffermare su un altro paio di cose per quanto riguarda la vestibilità e il taglio, ed è la lavorazione del pollice. Abbiamo veramente tanto lavorato per facilitare sia la parte, la fase di ingresso della mano, e sia per facilitare il fatto che il pollice sia a tutti gli effetti o punibile. E questo, diciamo, sembra una sciocchezza, ma poi quando si va a prendere il pallone, non sentire la cucitura che ti batte, diciamo, sul pollice, è veramente un bel plus. Inoltre, abbiamo lavorato sugli insert, sugli wrap laterali, che ci sono sia sotto che sopra, trattando, è difficile da spiegare, però il pollice è come se fosse un dito normale, e quindi non abbiamo fatto il classico, diciamo, risvoltino che fa tutto il giro, ma è come se fosse un dito normale, quindi il lattice si alza tutte e due le parti e si riabbassa, diciamo, creando una forma molto più anatomica. Vedrete quando lo proverete, perché è veramente una sensazione molto, molto particolare. Una specie di roll finger anche sul pollice. Cosa? Una specie di roll finger anche sul pollice. Sì, esatto, tu fa conto, sei presente qua come lavorano le dita su Vision, per esempio, che l'attice si alza e avvolge il dito più sopra? Ecco, è la stessa cosa anche sul pollice di... Cavoli! Qua si vede, ma... Sì, sì, che bello studio che hai fatto. Qui si vede molto bene. Si alza e avvolge bene, quasi come abbracciare, abbracciando il pollice. Per quanto riguarda il dorso, abbiamo utilizzato un materiale che non avevamo mai utilizzato fino ad oggi, che molti chiamano brilaprin e di fatto per certi aspetti lo è. In sostanza, un materiale traforato, un neoprene traforato, quindi la parte gommosa all'interno è stata perforata per facilitare la traspirazione della mano e dopo è passata apposta sopra una licra che comunque è molto, molto leggera ed elastica e permette al guanto di essere abbastanza elastico e di non essere, diciamo, troppo compressivo e... Sì, compressivo direi che il termine è giusto. In più a questo sono state applicate delle stampe in silicone, oro in questo caso, che diciamo si ispirano molto... A me piaceva molto, nella sua semplicità, il concetto di veramente un ripartire da delle basi, da zero. Questo è un po' quello al quale mi sono ispirato. Volevo una forma che lavorasse come un gradiente, però allo stesso tempo non è un semplice gradiente perché questi elementi, questi pallini, si muovono in un modo, viene da dire quasi 3.0, quindi molto... Ricorda dei movimenti molto digital. Quindi anche qui, diciamo, c'era questo concetto di partire da delle basi, da una struttura molto semplice, molto elegante, molto pulita, ma poi innovazione, che è un po' quello che a noi i Levin piace fare. E quindi sostanzialmente è proprio una struttura minima di questo guanto, perché poi non c'è gel, non c'è lattice, è proprio molto, molto semplice. L'altra grande, diciamo, particolarità, innovazione, invece, la vediamo nella parte bassa del palmo, dove, a differenza di i nostri guanti storicamente, o, diciamo, come abbiamo sempre lavorato i guanti, quindi, inserendo il noprene su tutta la parte, su tutto il polsino, più l'inserto in licra, qui abbiamo deciso di lavorare con un polsino elasticizzato. Per quale motivo? Per facilitare l'ingresso della mano, quindi perché il polsino elasticizzato è molto più elastico, e allo stesso tempo, una volta che viene rilasciato, è molto più compressivo che non l'inserto in licra. La chiusura in noprene è simile a quella di Vision, quindi fa mezzo giro intorno al polso, andando a bloccarsi, diciamo, all'inizio della parte posteriore del guanto, in modo da lasciare comunque tanto spazio, e da sembrare, quasi nella maggior parte dei casi, un guanto senza cinturino. Abbiamo completato con questo elemento, che serve anche qua a mantenere il guanto in posizione, che è sempre fatto in materiale elastico, con questa stampa Eleven che fa tutto il giro, che secondo me è molto pulita, molto elegante. Sì, sono d'accordo con te. Chiedono da che ora si può preordinare, e le personalizzazioni dove andranno. Le personalizzazioni andranno, come su Vision, in questa posizione qui, e da che ora si può preordinare, appena finisce la live, tempo di schiacciare un pulsante sul sito, e la pagina è online. È già pronta, è tutto a posto, potrete tranquillamente preordinare il vostro guanto, che poi sarà consegnato in una quindicina di giorni, quindi fate conto in arrivo con la limited parte 10. Top. Qui diciamo queste cose che abbiamo già dette, partiamo dalla 6, quindi anche questa è una bella novità, perché come con Vision per i guanti top abbiamo deciso di partire dalla 6, che è una taglia che stiamo vendendo sempre di più, questa è una cosa che mi fa molto molto piacere, e come detto prima, la vestibilità è bella aderente, però non pensate a un guanto claustrofobico tipo V-Sense. È per assurdo ancora più adatto a tutte le mani di Vision, è veramente un guanto morbido e comodo, e questo secondo me verrà veramente in favore di tanti portieri che magari hanno le mani più robuste, ma senza svantaggiare quelli che hanno una struttura delle mani più agile. Per rispondere a Filippo che chiede se di Vision ha una 10, cosa devo prendere? Probabilmente un'altra 10. Sì, direi di base di sì, senza nessun dubbio. Ecco, diciamo che come per Vision, se avete una mezza taglia di altre marche, potete anche valutare di andare sull'intera inferiore. Io l'ho già specificato sulla pagina del sito, banalmente io che di marchi come, lo dico senza problemi, Royce, Hullsport, eccetera, eccetera, viaggio tra la 10 e mezza e la 11, di Vision utilizzo la 10 e di Alpha utilizzerò sicuramente la 10. Quindi c'è da tenere questa in considerazione. Diciamo che anche un'altra delle evoluzioni che abbiamo fatto come brand è quella di cercare sempre di più d'ora in poi di omologare le taglie. Quindi abbiamo preso come riferimento il guanto che di base è più venduto sul nostro sito, quindi Vision, e abbiamo da lì tirato la linea su tutti i punti di riferimento, come quello come punto di riferimento per stilare le altre taglie e andare sempre meno in confusione. Perfetto. Infatti Nerone che dice che ha la 6, dovrai prendere la 6 di Alpha. Assolutamente sì. Come detto prima, la personalizzazione è disponibile, la disponibilità è da metà settembre circa, i preordini partono subito, il prezzo è 79,90. Anche qua, come abbiamo fatto anche gli anni scorsi, se lo volete acquistare subito in preordine, il prezzo è di 74,90, fino al 10 di settembre. Quindi avete questa opportunità di accapararvelo a un prezzo inferiore acquistandolo subito dopo la fine della diretta per i prossimi giorni. Quindi è un modo anche per ringraziarvi della fiducia che ci date nell'ordinare, nel preordinare il guanto. Super. Nerone puoi andare tranquillissimo sulla 6, se utilizzi la 6 di altre marche puoi entrare tranquillissimo sulla 6, ma comunque se hai qualche dubbio in più, non ti preoccupare, scrivici su Instagram o via mail, che dopo magari se hai piacere, vuoi fare una valutazione un po' più completa della taglia, ne parliamo senza problemi. Ti saluto intanto. Ciao Salvatore. Ciao Nealbi. Saluto. Certo si può prendere assolutamente quell'abbonamento, infatti è un'altra delle cose, che poi ci sono altre foto del guanto, ma da settimana prossima andremo poi effettivamente a scattare in campo, quindi avremo proprio una panoramica a 360 gradi di quello che è il guanto, lo vedrete un po' più indossato, lo vedrete un po' più, diciamo lo vedrete a più a 360 gradi che non con queste semplici foto, che comunque sono molto indicative, ecco. E a questo proposito andiamo, diciamo ci avviamo verso l'ultima parte della live, parlando di Leven Pro, e di conseguenza poi della Limite d'11, per dire che questo è anche, per tutti gli abbonati Leven Pro, possono avere dal giorno 1 il guanto a, diciamo, senza pagare niente, quindi questo è un vantaggio enorme nell'abbonarsi, e di fatto invece di spendere quasi 80 euro per il guanto, più spese di spedizione, eccetera, eccetera, se lo portano a casa a 60, senza spese di spedizione, senza spese di personalizzazione, e quindi insomma, con il Leven, che continua a crescere sempre di più, e a sfornare prodotti sempre più intriganti, rimane un modo per risparmiare veramente tanto, soprattutto se fate un utilizzo intensivo di guanti. No, mia, fino a quando ci si può abbonare, Fede? Ci si può abbonare sempre durante la stagione, ma se volete ricevere, così cambia anche slide, se volete ricevere la prossima Limite Edition, la parte 11, vi dovete abbonare entro il 30 del 9, e preordinarla entro il 30 del 9. Quindi è molto molto importante, che se siete interessati, potete fare questa cosa qui. L'abbonamento Nerone si fa andando sul nostro sito, c'è proprio una sezione dedicata, che si chiama Eleven Pro, e si abbona, ci si abbona, ci sono tre pacchetti, uno da 5, uno da 7, da 10 guanti, si paga inizio anno, una cifra iniziale comprensiva del costo di tutti i guanti, e dopo per tutto l'anno non si paga più niente. È un ottimo modo per veramente risparmiare, perché nel, diciamo, pacchetto meno conveniente, che è quello da 5 paia, si spendono 300 euro di tutti, 299, e quindi alla fine, appunto, è come spendere 60 euro a guanti, invece che spenderne 80. Da risparmio. Assolutamente, arrivando fino al, diciamo, al pacchetto da 10, dove risparmio, è ancora più evidente, perché si spendono 50 euro, che è quasi la metà ormai, del prezzo di vendita. Quindi, è sicuramente un ottimo modo per risparmiare sui propri guanti, poter avere sempre guanti nuovi, perché il vantaggio è, appena esce il guanto, dal giorno 1, potete già preordinarlo, senza farvi nessun problema, e in più avete le limiti di vision, che sono sempre... E la personalizzazione anche, che è... Personalizzazione, che viene 5 euro, non la pagate. Quindi, insomma, assolutamente, è veramente un'ottima, un'ottima soluzione. La limited edition 11, vediamo se ti riesco a fare dire, più o meno, quando arriverà, Natale, dopo Natale. Allora, no, no, allora, in teoria, in teoria, in teoria, dovrebbe arrivare con la collezione, di dicembre, gennaio, quindi, siamo lì, dicembre, gennaio. Va bene, dai. Non entro col dito, dai, tranquillo. Esatto. Sì, ecco. No, però sai cosa, però hai fatto bene, a dirlo, perché così lo ribadisco una volta in più, per le limited edition, chiaramente è un guanto che voi acquistate nel momento del pacchetto, perché fate il pacchetto, però non ci sono delle date precise di spedizione, avete, abbiamo delle deadline per gli ordini, poi parte la produzione, perché viene prodotto su proprio... Solo in quale pezzi? Solo in quale pezzi, certo. Esatto, con un numero limitato di pezzi, e quindi, chiaramente, non avete delle date precise di uscita, ma diciamo, l'obiettivo, anche se di questi tempi è sempre più tosta, è quello di essere più puntuali possibili, anche se devo essere onesto, è sempre tosta, veramente, ci credo, ci credo, ci credo, ci credo, ci credo, ci credo, ci credo essere precisissimi. La spedizione dall'estero e tutto sarà Dogana, amica Dogana, sarà sempre così, esatto. Sarà sempre così, però, cavoli, adesso fai anche la limited edition, anche per le taglie 6, 7, piccoline, cavoli super bella notizia anche per Nerone alla fine col pack da 10 cosa sono? 3 limited 2 limited e 8 2 limited in esclusiva porca miseria rispondo ad Alessandro puoi fare il preordine appena finisce la diretta mandiamo online la pagina e quindi puoi prenotare tranquillamente da lì senza nessun problema basta direi che adesso se avete qualche domanda curiosità sui guanti rispondiamo Alzi ha avuto l'occasione di provare i prototipi quindi un po' può dirvi anche lui qualcosa sui guanti e diciamo siamo qua disponibili per qualche minuto per qualche dubbio qualche curiosità io di Alfa posso solo parlare bene per quello che l'ho visto in montagna con i ragazzi di Eleven Days effettivamente non l'ho mai indossato in campo però al tatto comunque in un certo senso l'hai indossato anche se non possiamo spoilerare però ho avuto un'ottima sensazione credo che Filippo, Alex e i ragazzi che c'erano in montagna possano dire la stessa cosa per quanto riguarda il discorso di Eleven Pro io sono super pro Eleven Pro anche perché io mangio i guanti chiaramente 10 paia all'anno ci arrivo facilmente quindi sono un super utilizzatore di paia di Eleven e per quanto riguarda invece Eleven FC spero di vedervi prima possibile tutti i ragazzi che sono stati in live su YouTube tutti i ragazzi che i 2000 mi piace vedere la live di TikTok di vedervi presto a Montorio a Montorio Veronese perché ci teniamo a fare un bel lavoro con voi sarà bello incontrarci sarà bello ritrovarci come prima Federico ha detto siamo passati da Wannabia Pro a fare video su YouTube ZV Jackson tanti influencer che sono passati nei nostri canali a creare qualcosa di nostro sul territorio proprio per venire e effettivamente Fede toccare con mano sia i tuoi guanti perché poi i ragazzi vogliono usano altri brand quando vogliono allenarsi con noi vogliono provare gli Eleven chiaramente Montorio Veronese è un posto anche per fare questo e di conseguenza sai abbiamo unito anche uno store fisico all'elemento in campo quindi da parte mia soprattutto poi hanno anche lo sconto certo soprattutto se tu ragioni sul discorso comunque salutiamo Valerio Filippi che nonostante tutto ci chiama durante la live ah ok voleva sapere come era andata soprattutto anche solo con l'iscrizione un 5% di sconto la spedizione gratuita secondo me hai messo sul piatto tanta roba e sta poi ai ragazzi che ci seguono anche sfruttare determinate situazioni quindi io saluto tutti quelli che Jovi GK che su TikTok ci ha consigliato a tutti gli altri anche quest'anno avrete il mio abbonamento salutiamo veramente Leo Messi i GOAT qua che ci ha fatto anche delle donazioni quindi Alex Filippo tutti quelli che sono in live spero di avervi passato la sensazione che ho provato io indossandolo Fede ora lo sta mettendo e sarà sarà sicuramente qualcosa di eccezionale non dopo aver visto come siamo passati dal 2000 e cos'era 2017 Fede e per i MULC dal 2017 ad oggi gli studi che hai fatto la miglioria di materiale anno dopo anno non posso che essere diciamo tranquillo del brand con cui ho deciso di collaborare beh grazie mille delle parole Albi da parte mia devo dire che è stato bello fare questo percorso insieme anzi continuare sempre di più insomma a intrecciare i nostri i nostri percorsi e speriamo di insomma che i guanti possano portarti anche il massimo della fortuna quest'anno in campo sono sicuro che io sono convinto che ti piaceranno molto li hai già provati però sono convinto che veramente saranno un guanto al quale farei fatica a tornare indietro ecco sono sono proprio contento sono proprio contento Giovanni un guanto clamoroso come sempre sono sempre più fiero di essere un abbonato di Leven grandissimo è un piacere tutto nostro poi io da un lato TikTok vorrei anche salutare tutti chiuderei almeno una delle due live fra un po' mi spegne il telefono no no allora possiamo chiuderle tutte in realtà senza nessun problema se vuoi partiamo da TikTok salutiamo salutiamo tutti i ragazzi che ci hanno scritto spero di aver risposto a tutti io comunque ai vari saluti che ci hanno fatto siete nel mio cuore grazie per essere stati sempre così così attivi in questi in questi periodi anche se da parte mia ho pubblicato molto meno Federico ha un canale bellissimo in cui sta pubblicando anche gli allenamenti che abbiamo fatto in montagna seguitelo se siete portieri comunque giocatori non ve ne pentirete quindi intanto ringraziamo tutto il pubblico pubblicheremo anche tanti video che faremo con la scuola quindi certo 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 mancano ancora i video after movie di 11 days quindi abbiamo tantissimo materiale non smettete di seguirci soprattutto su YouTube e TikTok perché sono due due canali molto importanti per questo brand io intanto saluto quelli di TikTok ci vediamo ci vediamo presto ciao ragazzi e torniamo su YouTube e io devo capire eccola qua ecco devo capire come si chiudono le dirette su TikTok va bene in alto a destra c'è sì 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 no sto scherzando qui salutiamo Nerone salutiamo Corrado se avete ultime domande un ultimo minuto ve lo dedichiamo molto volentieri se no davvero ci speriamo vi lasciamo la serata ai camp agli allenamenti oppure con i nostri guanti taggateci ragazzi quando utilizzate il event taggateci Fede è contento di ripostarvi e io chiaramente di vedervi di vedervi parare Fede da un lato posso anche lo stai continuando a indossare perché ti ti sta stimo ti sta piacendo proprio eh poi lo voglio far vedere bene ai ragazzi che così si fanno vedere come vesta allora ti conviene ti conviene togliere la presentazione così si vede molto più grande Fede metti dimmi a me piccolo togli la slide di presentazione eccomi così super fit super super fit è momento di spazio di presa è molto morbido come vi dicevo rispetto a un V-Sense nonostante sia anche questo un negativo è molto meno compressivo e brevemente prima di salutarvi eh vado ancora su un paio di dettagli nonostante il bianco sia sia abbastanza diciamo forte rischia di essere un po' bruciato e anche qua sull'esterno del palmo il lattice si avvolge molto molto bene quindi avete proprio una sensazione di avere tantissimo lattice su tutta tutta la mano tanto l'hanno abbiamo avuto chili approvati a pian cavallo perché sono stati presentati diciamo in anteprima per i ragazzi che sono venuti ai nostri camp e e quindi insomma dai abbiamo già avuto delle prime impressioni positive anche dai ragazzi bene direi di andare in chiusura cosa dici Albi perfetto ragazzi buona serata buona cena da parte mia è stato un super piacere essere essere qua ospite quindi quando posso sono sempre sono sempre con voi un in bocca al lupo a tutti Fede noi ci sentiamo presto assolutamente sì ultima cosa Albi dopo so che hai già salutato ti chiedo scusa mi è venuto in mente che saranno disponibili per i preordini anche i riassortimenti dei guanti che ora non ci sono sul sito però è fondamentale questa cosa cioè Vision di G taglia 10 per esempio che è un momento terminato sarà di nuovo disponibile Adder sarà di nuovo disponibile per il preordine e arriveranno tutti insieme ad Alfa e questo è molto molto importante per cui se andate sul sito adesso finita la live e vedete che ci sono i guanti non disponibili tranquilli che appunto Vision DG Adder tornano Adder in particolare torna con una modifica questa l'hai vista anche tu sulla parte bassa del bolsino e con una piccola modifica sulla parte esterna della mano per migliorarne la calzata e la struttura rinforzare la struttura quindi tutto qua però era giusto fare una chiosa finale Alla grande Io mi aggrego i tuoi saluti che così ti evito di rifarli di nuovo e vi ringrazio per essere stati presenti siamo stati veramente tanti a un certo punto tra TikTok e YouTube siamo stati veramente tanti mi ha fatto molto molto piacere spero che i guanti vi siano piaciuti e non vedo veramente l'ora che li proviate perché magari questo non è il momento ma pian piano nei prossimi giorni andremo un po' più nel dettaglio anche per raccontare la storia dietro la produzione quanto tempo ci ha voluto e per cui ho tante aspettative e non vedo l'ora di sapere cosa ne pensiate e cosa ne dite quindi grazie veramente tanto di essere stati qui e vi auguro una buona serata e insomma ci vediamo sul sito e su Instagram per tutte le informazioni eccetera eccetera ciao a tutti ciao Francesco ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti